Una breve visita ad un nuovo prodotto dell'industria aeronautica italiana, il Camp Z 511, gigantesco transatlantico interamente metallico. Mosso da quattro motori, può trasportare oltre l'equipaggio di sei persone, 16 passeggeri, ad una velocità di 330 km orari, con una autonomia di volo di 4000 km. Tutta la sistemazione è molto curata e confortevole. Il Camp Z 511, gigantesco transatlantico interamente. Il Camp Z 511, gigantesco transatlantico interamente. La seconda è scena, è scena, è scena! Grazie.